Basti pensare che se il signor Desiano avesse avuto l'immobile abusivo nella lingua di terra dove si trova l'applicabilità del famoso articolo 25, attualmente la resa molto probabilmente la si bloccava, è stato sfortunato a tenere la casa abusiva a lato di Forio, nella lingua di terra di Forio che non ha subito danni dal terremoto, perché in caso contrario l'articolo 25 avrebbe fatto in modo che quella casa trovava spazio nell'alvio della legalità, perché? Perché il condono del 2003 che se non erro è quello che ha il signor Desiano presentato e non vale, in quel caso prendendo spunto dall'esamina del condono 2003 sulla scorta delle regole del condono 85, il condono era applicabile e io credo che non ci possa essere un condono diverso dall'altro, perché questa è una discriminazione tra generazione e generazione.